Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale Tech TV. Oggi siamo qui per recensire il notebook Asus Vivobook 16 XM1603QA-B0BL8D9XLN, un prodotto di alta qualità che promette di soddisfare le esigenze di chi cerca un computer portatile affidabile e performante. Questo notebook presenta una serie di caratteristiche interessanti, tra cui un potente processore AMD Ryzen 7, una scheda grafica dedicata a Nvidia GeForce GTX 1650, uno schermo da 16 pollici di ottima qualità e una memoria RAM da 16 GB. Ma non voglio anticiparvi troppo. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questo prodotto e per capire se Asus Vivobook 16 XM1603QA-B0BL8D9XLN è il notebook giusto per voi. Senza ulteriori indugi, iniziamo questa recensione. Asus Vivobook 16 X, stupisci il mondo con la potenza dinamica. Fai brillare il tuo mondo con Asus Vivobook 16 X, il laptop ricco di funzionalità con un display brillante. Vivobook 16 X semplifica le cose da fare, ovunque. Tutto è stato migliorato, dal potente processore mobile AMD Ryzen 5 alla cerniera Lay Flat a 180 gradi, ai colori moderni e all'elegante design geometrico. Inizia oggi una nuova vita con Vivobook 16 X. Scopri una nuova visione vivida. Il display Nano Edge su tre lati di Vivobook 16 X è un vero piacere per i tuoi occhi. Ha ampi angoli di visione ed è riconosciuto TUVO Rheinland per i bassi livelli di luce blu, riducendo il rischio di affaticamento degli occhi durante le sessioni di visione. Lascia che Vivobook 16 X guidi il tuo viaggio creativo con una nuova esperienza visiva. Prestazioni di alto livello. Vivobook 16 X è il tuo accattivante compagno di tutti i giorni, sempre pronto a svolgere con leggerezza la tua agenda, che si tratti di ufficio o personale, di presentazioni o di gioco. Per i carichi di lavoro più impegnativi, il processore AMD Ryzen 5 5600H con 8 GB di memoria veloce e 512 GB di spazio di archiviazione SSD offrono una riserva di potenza quando il gioco si fa duro. Aumenta la tua produttività. Vivobook 16 X offre prestazioni di altissimo livello grazie al processore AMD Ryzen 5 5600H per semplificare ogni attività, che si tratti di streaming, navigazione, editing, video chat o semplicemente di occuparsi degli affari di casa. In grado di raggiungere una velocità turbo boost di 4,4 GHz, è la generazione con le prestazioni più elevate. Più fresco, più silenzioso e più veloce. Per mantenersi fresco in ogni situazione, la tecnologia termica Asus High School di Vivobook 16 X utilizza tubi di calore aggiornati 3 e una ventola Ice Blade che accelera efficacemente il trasferimento del calore. La ventola 87 pale e la girante sono realizzate con un polimero a cristalli liquidi che le rende più leggere e sottili delle normali ventole. Inoltre, la ventola utilizza un cuscinetto fluido dinamico più silenzioso e con meno vibrazioni rispetto a un cuscinetto normale. Il risultato finale è che la potente CPU TDP può funzionare comodamente con un TDP totale di 45 W in modalità performance, senza throttling. 99% di inibizione batterica. La superficie di ogni laptop ospita migliaia di batteri potenzialmente dannosi. Per mantenere l'igiene del tuo portatile, è protetto da Asus Antibacterial Guard, uno speciale trattamento della superficie che tiene lontani gli insetti. Infatti, è scientificamente provato che Antibacterial Guard 6 inibisce la crescita dei batteri 7 di oltre il 99% nell'arco di 24 ore, assicurando che le superfici 8 del tuo laptop siano pulite e igienizzate più a lungo e riducendo la diffusione di batteri potenzialmente dannosi attraverso il contatto. Grazie per la visione!